Cari amici ben ritrovati, aria fredda da est sta cercando di raggiungere il nord Italia ed il medio Adriatico. Nel contempo un vortice freddo in quota influenzerà le Alpi occidentali, mentre da ovest sta avanzando una saccatura che nella giornata di domani venerdì si isolerà solo sulla Sardegna. Da domenica il tempo migliorerà grazie ad una nuova rimonta dell'anticiclone che però durerà solo fino a martedì 31, poi ricomincerà un flusso di correnti sud-occidentali ed un modesto rientro di aria fredda da est, soprattutto al nord. Ne deriverà un peggioramento del tempo tra mercoledì 1 e giovedì 2 al nord e lunghe versanti tirrenici, ma ne riparliamo nei prossimi giorni. Vediamo adesso il tempo per la giornata odierna. Rientro di aria fredda al nord e sul medio Adriatico, nubi su Sardegna e Meridione ma senza conseguenze. Sulla nostra provincia giornata parzialmente nuvolosa, le temperature si porteranno ai 15 gradi nei valori massimi registrati alle ore 14 e minime di 10 previste alle ore 23. Momenti moderati soffieranno da nord e nord-ovest e da sud sud-est di debole intensità nella sera, con il mare nello strato di Messina poco mosso. L'intensità solare più alta si è registrata alle ore 12 con un valore UV di 3.5. Sul versante tirrenico, nubi sparse. Le temperature si porteranno a 14 gradi diurni e 9 nella notte. Venti moderati soffieranno da nord-ovest e da ovest nella sera di debole intensità, con il mare tirreno poco mosso. Sul versante ionico, sareno o poco nuvoloso, con temperature comprese fra 13 e 6 gradi. Venti deboli soffieranno da nord-nord-ovest, da nord nel pomeriggio, assenti nella sera, con il marionio poco mosso. Nella giornata di venerdì 27 gennaio, nubi in aumento sul nord-ovest e regioni tirreniche con rischio di precipitazioni, entrosera soprattutto sulla Sardegna, tempo migliore sul resto del paese. Sulla nostra provincia, giornata caratterizzata da nubi sparse, con temperature comprese tra 13 gradi, nei valori massimi previsti alle ore 13 e minime di 9 previste alle ore 7 del mattino. Venti moderati soffieranno da sud-est, con mari poco mosso il tirreno tra il poco mosso del mossolo ionio. L'intensità solare più alta si registrerà alle ore 12 con un valore UV di 0.5. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.